Scudetto all'Inter, ebbene se ieri c'è stata questa partita di Serie A il derby dove l'Inter ha vinto contro il Milan 2-1 un derby fondamentale per l'Inter già prima in classifica insieme al Milan se l'Inter avesse perso il campionato secondo me era ancora aperto ma siccome ieri ha vinto contro il Milan e contro il Milan per l'appunto l'Inter si trova ormai matematicamente parlando pronta per ricevere lo Scudetto un epirobo davvero eccellente per la squadra nera zona per eccellenza una stagione veramente eccellente, ottima per questa formazione calcistica che ha ottenuto dei risultati ampi, importanti, garantiti da un attacco eccellente mi permetto di dire, da una difesa invalicabile e da un centrocampo di grande fascino, di grande bellezza risultati molto positivi, buoni per l'Inter Inzaghi entra nella storia come il buon Maguerrera tra virgolette e il valore aggiunto lo fa ovviamente l'assetto tattico, l'assetto di attacco che di certo è un attacco di tutto rispetto, che non si perde l'animo che non perde occasione di manifestarsi e manifestarsi anche bene ok, il video termina qua, iscrivetevi, commentate e ciò da lì andrò, non è arrivata, lì andrò, non è arrivata, lì andrò, non è compagnia lì